e buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovo video di sonyxs benvenuto in questo nuovo video oggi ragazzi siamo qui sul diciannovesimo episodio barra ventesimo non mi ricordo jeb dimmelo ti ricordi che poi l'episodio eravamo? grazie per la risposta ha detto di no oggi ragazzi come avete letto dal titolo siamo qui cioè ho trovato un dungeon prima di trovare il dungeon ho trovato perchè sto andando fuori non lo so prima di trovare il dungeon ho trovato lo spawn di ragni per quindibu e non ho trovato chissà che eh però ho trovato ehm nello spawn di ragni se ce lo faccio guarda che ok nello spawn di ragni ho trovato due pozioni protezione e resistenza al fuoco ed ehm ed un'altra un'altra armatura dal cavallo di diamante e ci sta e poi ho trovato vabbè schifezze schifezze ho raccolto un po' di perro adesso abbiamo uno stack per fortuna e poi e poi nel dungeon non ho trovato ancora niente e adesso andiamo ad esplorarlo insieme ad voi devo essere sincero ho molta molta paura prima che mi perdo e sono cavoli se mi perdo lo sapete vero sto avendo molta fortuna ehm scavando perchè ho trovato danni il spawn di ragni ehm poi diamanti subito ma i diamanti che sto trovando c'è altro davvero tre secondi ecco qui è questo era lo spawn dei ragni mi sento queste cose che non mi servono e qua c'è qui ma l'ho ancora visto ma c'è un creeper che adesso muore allora andiamo un secondo qui e prendiamoci la freccetta allora mettiamo questo qua ok l'ho laggata ok adesso lo risalgo su e andiamo nel dungeon signori signori come ho detto prima molto molto paura allora andiamo verso di qua tipo continua allora ragnatela 10 no ma quanto è lagga raga no ma non è va bene va bene va bene allora teniamo lo scudo a posto della cosa della non morte pronti pronti che mai e let's go let's go allora intanto ferro che non avevo preso andiamo verso qui che ho messo le torce allora avevo già preso la cassa però non ho trovato niente all'opinione però questo perché non l'ho preso? cioè potranno essere d'aiuto un giorno forse forse sì forse no boh allora vediamo un po' vediamo trovo sempre dal ferro e va bene cos'era? era un enderman tipo? che rumori brutti fa niente allora intanto prendiamoci minerali che non fanno mai male sono ripeto ho molta paura ok cassa ehm andiamo subito a prenderla targhetta va bene va bene va bene anche se ce l'abbiamo già fa niente va bene la stessa targhetta aspetta perchè mi scordo sempre di prendere allora ritorniamo aspetta che prendiamo il ferro già che ci siamo di nuovo stiamo facendo una bella scorta di ferro con i minerali siamo messi abbastanza abbastanza bene in sto mondo per quindi va bene ah raga per chi se lo chiede sono sempre nella patch 1.12.0 1.12 come vorrete chiamare come dico ogni singola volta volta sono se non cambi patch perchè alla fine non so neanche come si fa per fare niente allora ritorniamo in superficie e let's go e let's go intanto non stiamo a trovare ho i zietti peri ma ho visto sento lo scheletro e ragno vediamo 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 ben 21 oh cavolo uccidiamolo e let's go e scappiamo ok allora 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 signori andiamo qui voglio le casse voglio trovare queste maledette casse allora aspetta che stiamo trovando ho tantissimo ferro davvero tantissimo e va bene e va bene allora mangiamo voglio voglio rendermen meglio di no niente allora credo sì ok proviamo ad andare lì dopo sotto e dopo dopo forse ritorniamo su perché la mia paura è indescrivibile io ho sempre paura dei dungeon e se muoio sono però i fiori sono troppo pericoloso troppo pericoloso troppo pericoloso madonna madonna c'è troppo dungeon c'è troppo dungeon allora andiamo qui verso casa però prima voglio andare qui voglio trovare le casse eh voglio trovare le diamanti perché li stiamo finendo c'era solo 15 per 15 davvero pochi ok qui è la parte dove si deve ritornare a casa ok qui è la parte dove si deve ritornare a casa e io voglio un secondo andare qui ok 45 ok ok qui non l'avevo visto ora mi prendo anche del carbone perché prima che mi finisce mi finisce va bene basta allora adesso eh che non c'è niente però no e magna guarda io adesso direi di ritornare acqua acqua ok vediamo se c'è tipo qualcosa però rega mi ha fatto male è però devi cercare il dungeon perché potevamo fare qui la farm di spider di di ragni eh sì sì ecco ecco allora non abbiamo trovato chissà che cosa siamo a 12 minuti eh non abbiamo trovato chissà cosa ci ritorneremo come giusto che sia perché dobbiamo visitarla proprio tutt' tutto 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 proprio tutto ritorniamo su e boh e boh e boh non abbiamo raccolto la pietra per cui quindi va benissimo ah ah ho cliccato ok ah raga cosa che non avevo fatto vedere sono stato un po' a pescare ho trovato respirazione 2 cercherò respirazione 3 che è benissimo cioè è tanta lava respirazione 3 lo cercheremo però ehm c'è solo un video dove andremo in acqua dopo di che ho trovato un tridente un altro tridente e l'ho sommato eh adesso vi faccio un secondo vedere però prima direi di farle cuocere allora tac no 30 sono troppi ok ok perfetto perfetto allora adesso dobbiamo riuscire ok perfetto allora come potete vedere abbiamo indistruttibilità 3 nel tridente quindi va bene abbiamo ben 5 sarghette di nome ma niente da fare cioè non ci serve alla fine perfetto niente abbiamo il condotto e cose nuove abbiamo la spada con indistruttibilità 2 e aspetto di fuoco 1 e va bene va bene allora direi di intanto mettere ok è strano perché mi fa mettere le torce io voglio mettere le torce e fa niente fa niente fa niente adesso eh metto a posto tutto l'oro è davvero ci abbiamo pochissimo dobbiamo fare le mele d'oro ce l'abbiamo solo 2 perché dobbiamo farle tante ce l'abbiamo 20 di di mele per quindi di problem con le mele allora mettiamo tutto a posto abbiamo finito lo spazio tra l'altro devo fare un'altra cassa me la faccio proprio ora 2 tatata e le metto qui vediamo se ce la faccio si dai va bene allora mettiamo fa tutto qui allora tatata 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 ci abbiamo davvero tante stringhe per quindi va bene perchè dico va bene perchè abbiamo ehm abbiamo dobbiamo fare dobbiamo aggiustare gli archi per quindi e poi anche le canne da pesca per quindi va davvero bene continuerò ad farmare tipo spiderman si in questa parte allora adesso devo mettere qua allora 17 16 33 42 e 48 allora quanto abbiamo 38 37 38 41 ok allora tac 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 ok tac dopo tac e tac ok perfetto ci abbiamo un po' tutti allora mettiamo il ferro qui ci abbiamo due stack alla fine e va bene adesso prendiamo la cordicella prendiamo ok ok qui devo prendere la legna perché non c'erò praticamente e adesso direi allora prima un arco direi un arco e una canna da pesca la canna da pesca si fa così ok e ok dopo di che devo andare qui dopo i trazzoli dobbiamo incantare la cosa peggiore boh cosa c'è allora potenza 1 indistruttibilità 1 potenza 1 che va bene abbiamo indistruttibilità 1 indistrutt... va bene cioè indistruttibilità 1 tra vita 1 risparmio 2 allora fatto ciò lo so che vi sto stancando adesso chiudo eh allora fiamma 1 è finito 1 potenza 4 eh serve fiamma però guarda che cosa ok ehm no faccio così e così perché c'ho la potenza c'ho già la potenza lo so che è poco però fa niente allora tache e tache tete perfetto la canna da pesca non possiamo è sicuro però vediamo fortuna pesca riparazione o indistruttibilità eh io direi fortuna del mare cosa abbiamo qui indistruttibilità ah no no questa 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 allora no questa e questa 16 ok perfetto no no va bene va bene allora mettiamo a posto allora vedete ok perfetto bene così allora raga da vostro caro x0 aiden è tutto e da jeb è tutto lasciate un bel like iscrivetevi al canale perché non l'ho ancora fatto e da vostro caro jeb x0 aiden e un lama è tutto e noi ci vediamo alla prossima bella raga